I pensieri del mattino. Ogni giorno ho una citazione seguita da una riflessione e chiudo con un breve pensiero. Oggi, 22 maggio. Confusione, solitudine. Le donne che svalutano se stesse rendono la vita dura a tutte le altre. Nelly McClung. Le donne hanno una particolare capacità di stringere legami tra loro. Siamo state cresciute dell'idea di poter essere competitive con le altre donne, che dovevamo considerare nostre nemiche e avversarie. In più ci hanno insegnato che le donne sono esseri inferiori e quindi dovevamo identificarci con gli uomini e diventare come loro, oppure adattarci al ruolo che ci imponevano. Tutto ciò generava una grande confusione e spesso ci siamo sentiti anche sole e isolate. Se riusciamo ad ammettere serenamente di appartenere al sesso femminile e di possedere la capacità di stringere legami con le altre donne, saremo, giustamente, sulla strada giusta. Potremo rispecchiarci nelle loro storie e il nostro isolamento diventerà un mezzo di coesione tra noi. Il mio pensiero. Non siamo sole. Tante donne condividono questa stessa esperienza. Buona giornata.